Rieccoci ragazzi bentornati a tutti sul canale di Niko in Game, siamo sempre qui con il nostro e per continuare la nostra avventura Abbiamo raggiunto il deposito, ecco qualcosa del genere, dobbiamo trovare qui tutti gli ingredienti necessari, abbastanza ingredienti necessari per poter creare la cura per tutti Infiltrati nel cortile del deposito, Abe è vicino all'antidoto, deve solo andare nei cortili del magazzino e rubarlo Tutti i Mudokon che libererà lungo il percorso vorranno dare una mano, suggerimento, non tutti i lavoratori Mudokon si trovano all'aperto Ho capito Va bene andiamo avanti Questa è un caso Sarà un casino, me lo sento Anche c'è gente Bene, iniziamo alla grande Perché non possiamo farci niente Mi sa Ah, il tipo si addormenta Ok Poi possiamo anche non legarlo Nel senso Tanto qui non credo che ci torneremmo A meno che non facciamo una brutta fine Una cosa molto probabile Stiamo raccattando di tutto Possiamo fare qualcosa Va bene Pazzo di merda Ecco perché Allora, fatemi capire Bastardo Come cazzo facciamo Niente Sì Bastardo Dobbiamo finiti tutti però Muoviti ascensore Vai vai Ok Ok Fin qui Ci siamo Aint' Aint'gonna happen While I'm here Aint'gonna happen Allora, qui Lecce Oh Ah, I got nothing Ah, I got nothing qualidade Gebertan Activo dibujте Di me Appello Pensa Lecce Chinty Ah, how irritating Cazzo! Venga! Ah non si passa da qui Prendi, prendi tutto, prendi tutto! Calvi trochi peli, lasciando 300 piaccionisti rosari appaiono si vede per la famiglia delle autorità INK La città, la CEO tra loro ha proprio un messaggio Come con me e ora! Siamo liberi, mettiamo liberi Oh oh oh, no Però è bella! Lui non può passare lì Le faccio io il giro Posso? Ah! Perché tu non sei capace, proprio non c'è riga a disattivare i cofri, eh. E adesso, adesso, è un casino. Questo cosa che fa? Non è letale. Io dove dovrei andare? Lì giù? Aspettate, no, non posso. Perchè non venite qui stronzi bastardi? Ma scusate, le vimbalzano addosso. Che fa qua? Mi sono lancia a fiamma, basta. No! Ho già capito come va a finire. Mi serve dell'esplosivo. Possiamo, possiamo. Ragazzo! C'è, c'è crollato... Ma parca, che sfida di merda! C'è crollato tutto sopra. Allora... Facciamo che... Lanciamolo qui... P村ata... C'è c'è... Dici, c'è c'è... Porca miseria, ma non è... Guardate, ragazzi... ...alle volte è una cosa pazzesca, imbarazzante... E fin qui ci siamo ma mi sa che ne abbiamo sprecati troppo brucia stronzo ce n'è anche per te che non si riuscite Sì Cosa? Porca miseria, pigna! No, che stronzi! Eh, quei cani lì sono un problema. Non ho capito se escono all'infinito questi cazzo di cani di merda. Stiamo facendo una straccia. Va bene così. No, forse sono finiti. Raccogliamo tutto di nuovo. Via, dai, dai, dai. Perfetto. Cannone di rifornimento. Ricorda che il cannone di rifornimento sparerà qualsiasi cosa si trovi nel tuo inventario. Serve meglio a scegliere cosa puoi sparare prima di tirare la leva. Eh, ma non abbiamo niente, cioè... Ah, vabbè, è di questo. Morti, morti. È un casino mirare con sta cazzo di cosa. Siamo già arrivati. Siamo già arrivati. Mars, fraud, murder, revealed in Rupture Farm CEO's Epic Commjob. Non ci sono i capi dei cani. Nessun diritto. Non ci sono i capi dei cani. Non ci sono i capi. No ci sono i capi. Oh, no. Non ci sono i capi. Sì Tutti, andiamo fuori da qui! Ok, fin qui ci siamo, ma... All'incirca, dove dovrei andare? Ah, dobbiamo distruggere questo passaggio. Possiamo, sì. Due, proprio giusti giuste. Due, mamma mia. Niente, praticamente. Vittate qui un attimo, va. All'incirca! 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 Iscriviti al nostro canale? oh niente ragazzi ma oggi veramente vabbè dai ah mi attacca proprio qui vabbè mi sono fatto ammazzare perché hanno quei caschetti di merda dove rimbalzano le cose che brucia Cristoforo ma adesso ne escono altri due da qui probabilmente si sta già uscendo i hate fire oh man this is getting hot this is eating up quick is it getting hot in here i hate fire i hate fire i hate fire help me help me help me help me help me help mommy help aha aha adesso straccia Ah oh 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 everybody it's time to get free i got a rock in my shoe you hear that ok cazzo cazzo se ne sono morti tutti cazzo 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 E mi ammazzava fisso Mi stava rompendo il coglio Veramente Mi stava veramente facendo girare le palle Vabbè recuperiamo tutto Speriamo di non morire adesso Altrimenti addio Venite voi Siamo Forza Non c'è pericolo adesso Sì Yes No c'è pericolo No c'è pericolo Come on I don't know why we're stopping I don't know Dove si qua Ok No c'è pericolo No c'è pericolo No c'è pericolo Cazzo No c'è pericolo No c'è pericolo No c'è pericolo No ragazzi Un casino Un casino Ce l'abbiamo fatta Miracolo Che è morto Che è morto Un paio Praticamente sono morti tu Vabbè dai Due sopravvissuti Due sopravvissuti Merda 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 Aspettiamo 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 Ottimo Cecchini Cecchini Bene Ottimo Oh anche i ragazzi Dove sono morti Perfetto Ci stanno i cecchini Qui Va bene Non li salveremo mai E noi non riusciremo mai Ad attraversare Questa cosa Questa cosa Attenzione Vabbè Quelli sono morti Quindi Lasciamo stare Dove stanno Sono morti anche Gli altri due Oh venite Che cazzarola Andiamo Ok Sì Sì Va bene Va bene Ce l'abbiamo fatta Va bene Possiamo Ritenerci soddisfatti Diciamo di sì Prendi l'antidoto Prendi l'antidoto sul treno L'antidoto è proprio qui Pronto per essere preso Ma devi portarlo sul treno Suggerimento Non perdere di vista il vagone Con l'antidoto Ah bene In che senso Non perdere di vista il vagone Il vagone dove sta Poi Vabbè Ragazzi Io mi fermo qui con questo episodio Voi come sempre Fatemi sapere La vostra È piena di container Mi raccomando Lasciate like Condividete Iscrivetevi Al canale Se non l'avete ancora fatto E noi ci vediamo Alla prossima Ciao a tutti Ciao a tutti